Vivo una situazione dove mi piacerebbe occuparmi dei miei figli, ma nello stesso tempo avere l'opportunità di lavorare. In Ticino come sarta, come venditrice, quindi per quello tra virgolette per cui ho studiato, di lavoro ce n'è poco e quello che trovi è a salari indecenti. I salari proposti sono 2000 franchi sporchi, 2200 franchi sporchi, al 100% tutto il giorno. Trovando un lavoro a 2200 franchi e pagando un affitto medio di 1500 franchi, fai 250 franchi di cassa malati, poi ci metti l'AVS, magari senza attività lucrativa perché non arrivi a un tot, alla fine ti rimane zero per fare la spesa. C'è l'asilo da pagare, la mensa e tutte queste cose, non ti rimane niente, o fai la spesa o lasci indietro le fatture, questo è il fatto.